Oggi parliamo di Giovanni dalle bande nere. Ciao e benvenuti a Oggi Parliamo, il podcast per gli studenti di italiano. Come va? Come stai? Spero tutto bene. Prima di iniziare ti ricordo che puoi supportare questo podcast offrendomi un cappuccino sul mio Patreon dove puoi anche comprare le trascrizioni degli episodi. Vediamo le tre parole di oggi. La prima parola è condottiero, un nome. Un condottiero è un soldato che guida un gruppo di soldati. Nella puntata di oggi parliamo proprio di un condottiero. La seconda parola è compagnia, un nome. Una compagnia è un gruppo di persone con un obiettivo comune. Per esempio, puoi avere una compagnia di amici che si trova con l'obiettivo di stare insieme e divertirsi. Nella puntata di oggi parliamo di una compagnia di soldati, ovvero di un gruppo di soldati che combatteva al servizio di un re o di una famiglia importante. La terza parola è proiettile, un nome. Il proiettile è quell'oggetto che viene lanciato da una pistola, da un fucile o da un cannone. Se una persona viene colpita da un proiettile, può essere ferita gravemente e può anche morire. Ok, siamo pronti per parlare di Giovanni dalle bande nere. Oggi parliamo di un condottiero, di un soldato, di un personaggio molto interessante e molto originale. Iniziamo dal luogo. Dove siamo? Siamo a Firenze. Più precisamente, siamo nella Repubblica di Firenze, nel 1500. Giovanni è un bambino, figlio di due persone che appartengono a due dinastie, a due famiglie molto importanti e molto potenti. Suo papà è un medici. Sua mamma è una sforza. Quando parlo di medici, parlo di una dinastia, di una famiglia, di un cognome. Se conosci la storia d'Italia e d'Europa, sai che i medici sono una famiglia centrale nella storia di Firenze e di tutta la Toscana. Forse la figura più importante tra i medici è Lorenzo il Magnifico, di cui parleremo in un altro episodio. Anche gli sforza sono una dinastia, una famiglia nobile italiana. Se i medici sono molto importanti a Firenze, gli sforza sono molto importanti nella storia di Milano e della Lombardia. Insomma, Giovanni è il figlio di due persone che appartengono a due famiglie molto potenti e molto importanti. Eppure sceglie di fare il condottiero, il soldato. Avrebbe potuto fare il notaio, l'avvocato, il politico e invece sceglie di combattere. Ma Giovanni non è solo un soldato. È un mercenario, ovvero un soldato che combatte per soldi, per denaro. È una persona molto carismatica, che attrae una compagnia, un gruppo, di soldati che lo seguono. E tutti insieme combattono per chi paga di più. Non ci sono ideali o connessioni politiche. Giovanni inizia la sua carriera combattendo per il Papa, per lo Stato della Chiesa. Sì, lo so, è un po' strano pensare che il Papa avesse bisogno di soldati. Ma all'epoca lo Stato della Chiesa era uno Stato, come tutti gli altri. E quindi aveva bisogno di un esercito, di soldati. Giovanni è molto legato al Papa Leone X, perché anche lui viene dalla famiglia dei Medici. In quel periodo l'Italia è divisa in tanti piccoli stati e le potenze straniere cercano di conquistare l'Italia. Da un lato c'è la Francia e dall'altro c'è l'impero di Carlo V. Giovanni prima combatte per Carlo V e poi passa con i francesi. Quando Carlo V invia un grande esercito in Italia, Giovanni gli crea molti problemi. Fa degli attacchi a sorpresa ai suoi soldati. Un giorno però Giovanni viene ferito da un proiettile. Per rimanere in vita deve farsi amputare, tagliare la gamba ferita. La leggenda dice che Giovanni era così forte e così coraggioso che mentre il medico, il dottore, gli tagliava la gamba, Giovanni teneva la candela in mano per fare luce. Il suo coraggio non sarà sufficiente perché purtroppo morirà per un'infezione. Ok, anche oggi abbiamo finito. Se vuoi puoi seguirmi su Facebook, Twitter o Instagram. Puoi offrirmi un cappuccino sul mio Patreon o puoi prenotare una lezione con me. Ci sentiamo domani. Ciao!